Shabbat Shalom e benvenuti al nostro estratto settimanale della Parashah dal nostro Erev Shabbat con le famiglie della parte del progetto Kadima devoluto totalmente alle famiglie con bambini dai 3 ai 12 anni. Oggi è la ultima delle Parashah del ciclo annuale che andiamo a commentare insieme e vi invitiamo a partecipare vivamente al supporto per la versione in stampa della rivista The Vash che è già stata condivisa in formato elettronico in versione PDF settimanalmente ed è tuttora disponibile settimanalmente per tutti coloro che lo richiedono come parte del progetto Kadima ma è appunto nostra intenzione continuare a lavorare sulla stampa così da avere una rivista che possa benedire tutti i bambini e bambine e le loro famiglie e che possa essere uno strumento di benedizione per ogni famiglia italiana e di lingua italiana e lingua inglese e speriamo anche spagnola. Per quanto riguarda il progetto Kadima è sempre continua ad essere tuttora in corso e per la rivista The Vash appunto si conclude con questo anno che abbiamo completato. È stato un lavoro abbastanza impegnativo ed è per questo che siamo felici di poterlo dare totalmente come strumento che utilizziamo di benedizione alla nuova generazione. Per coloro che sono interessati a supportare appunto la stampa della rivista possono contattarci a contatto chiocciolammacassesselticva.org e semplicemente attraverso l'offerta di dedicazione a un vostro caro, una vostra cara, i vostri bambini potete supportare appunto la stampa della rivista The Vash. Ma andiamo a pregare insieme prima di dare uno sguardo alla parasha che è una parasha particolare e che viene normalmente letta durante proprio l'ultima festività che è Simchatora e che andiamo a commentare oggi insieme. Quindi Chak Sameach che possiate avere un gioioso Yom Tov appunto Sukkot perché siamo ancora in Sukkot fino a domani e preghiamo insieme. Abinu Malkenu, nostro padre, nostro re, ti ringraziamo per questo meraviglioso tempo che ci hai donato, per poterti servire e per poter donare uno strumento che possa benedire le famiglie, i bambini, le bambine, la nuova generazione con lo studio della Torah attraverso un metodo gioioso, creativo e dolce che possa riferirsi alla tua Torah in maniera chiara, in maniera semplice, in un linguaggio che possa raggiungere le famiglie italiane e di lingua italiana, di lingua inglese e spagnola in ogni nazione, da Israele alle nazioni e ti chiediamo di poter prendere questo primo frutto del progetto Kadima e di poterlo benedire con il tuo oro, il tuo argento in una maniera sovrannaturale che solo tu puoi portare avanti, di poter moltiplicare ciò che è stato fatto da noi secondo la tua volontà, nel nome del Moshiach Ben David, Moshiach Yeshua, Amen, Amen. Quindi benvenuti a questo gran finale delle Parashot del progetto Kadima e rivista Devash e la fine appunto del ciclo della lettura della Torah è vicina, ma per coloro che hanno seguito le varie Parashot tutto l'anno, appunto tutta la rivista Devash, sapete che la fine è solo l'inizio, si celebra infatti la vita del più grande profeta che sia mai esistito il completamento del ciclo della lettura della Torah in questo emozionante episodio della rivista Devash. In questa Parashah è una Parashah molto particolare, Parashah Vezot Avraka, ci sono 0 mitzvot e 41 pesuchim o frasi, 512 numeri di parole e 1969 lettere nella Parashah appunto. Nella Torah, ossia nella porzione profetica, tratta dai profeti, che si legge subito dopo la lettura della Parashah, viene tratta dal profeta Yehoshua, ossia Giusuè, dal capitolo 1, versetti 1 fino al 18, per gli Eskenazim, per i Sefarditi, sempre da Yehoshua o Giusuè, capitolo 1, versetti 1 fino a 9. Nel nostro ultimo episodio della rivista Devashah, Shem ha dato a Mosheh uno scorcio di Erez Isdrael, dalla scima dell'Ar Nebo, del Monte Nebo, che si trova appunto in Giordania, al di là, nella zona est appunto del Giordano. E proprio quando pensavamo che Mosheh fosse pronto a morire, a lasciare appunto questa terra, il leader spirituale ebreo ha un'ultima richiesta, appena rimproverato Ibene Isdrael durante la scorsa Parashah, Parashah Asinu, e non vuole lasciare Ibene Isdrael con un messaggio così forte, così duro, come messaggio finale. vuole benedire tutte le tribù, gli Shevatim di Ibene Isdrael. E l'angelo della morte è indisparte, è pronto a prendere l'anima di Mosheh, ma è impotente quando Mosheh inizia la sua serie di benedizioni. Mosheh infatti inizia lodando Hashem e Ibene Isdrael, Hashem offre la Torah a tutte le nazioni del mondo, ma ogni nazione rifiuta di assumersi una responsabilità così pesante. Infine ad Arsinai, in mezzo a tuoni e fulmini, una nuvola si abbassa, la nuvola della Shekina che copre la montagna dell'Arsinai in mezzo a tuoni e fulmini, e Ibene Isdrael viene coperto appunto come da una cuppa, che è appunto quella copertura, quel baldacchino che viene utilizzato durante i matrimoni ebraici e simboleggia proprio il matrimonio fra Hashem e Ibene Isdrael. E in quel giorno Ibene Isdrael e Hashem sono come Khatan e Kala, appunto la Kala che è la sposa, e Khatan che è lo sposo, e Mosheh chiede a Ibene Isdrael accetterai la Torah di Hashem? Quindi è una domanda importante perché nessuna nazione ha accettato quella responsabilità spirituale, quel peso. E Ibene Isdrael risponde dicendo all'unisono Na'ase venishma, venishma, quindi faremo e ascolteremo. Ed è importante ricordare questa frase. Faremo, quindi metteremo in pratica e ascolteremo. Quindi viene prima l'azione, la pratica e l'ascolto viene dopo. Questo vuol dire che in obbedienza, anche senza comprensione, ma l'Israel è pronto ad agire secondo la volontà di Hashem e ad ascoltarlo a ciò che Hashem ci comanda. Ed è questo che Hashem richiede nella nostra fede, la pratica di ciò che noi riceviamo, non solo la teoria, perché la teoria va via se non viene praticata. Ogni cosa che noi impariamo, se non viene praticata, non rimane nella nostra mente. E, come sappiamo, è importante ripetere ogni cosa che noi impariamo, che sia essa una preghiera, che sia essa la scrittura, quando impariamo la lingua ebraica, qualsiasi nozione noi impariamo, la dobbiamo praticare. Perché quando pratichiamo senza comprendere, ma in obbedienza alle scritture, secondo la volontà di Hashem, allora riceviamo benedizione. Non serve che noi comprendiamo ogni cosa, perché la nostra capacità di comprendere le cose è limitata come esseri umani. E Hashem richiede obbedienza. Poi, una volta che mostriamo l'obbedienza e la pratica, la messa in pratica di ciò che riceviamo come dono della sua Torah, allora, attraverso l'ascolto del Ruach HaKodesh, riceviamo anche non solo benedizione, ma comprensione di noi stessi e degli altri e di Lui. Amem? Moshe, quindi, chiama la Torah la legge del fuoco di Hashem. Perché il fuoco? Il fuoco è il Ruach HaKodesh, è vivo. e che non si brucia mai, come era appunto quando Moshe è stata la presenza di Hashem davanti al rovetto ardente, che non si spegneva mai. Ma la legge del fuoco di Hashem non si brucia se viene maneggiata male, perché è potente e è un fuoco che va oltre la nostra compensione. e quando Hashem e Ben Israele fanno un patto all'arsinai, un patto come sposo e sposa, l'accordo è di proteggere le mitzvot di Hashem, è come un figlio. Quando la Torah viene donata, quello è un figlio e un figlio deve essere protetto. quindi Ben Israele e Hashem come sposo e sposo hanno una grande responsabilità di proteggere la legge, i mitzvot di Hashem. Perché nella protezione è che si comprende lo scopo, il motivo per cui noi viviamo, che non è quello di ricevere la benedizione economica o finanziaria e diciamo materiale, è quello di capire più di noi, più di Hashem e più degli altri. E abbandonare quelle mitzvot, quindi un figlio, abbandonare il frutto del seno di Hashem è come giocare con il fuoco. Ci si brucia e si può morire. Moshe avverte che l'intero patto avrà, diciamo, una cattiva conseguenza su Ben Israele se gli ebrei combatteranno contro i loro fratelli. Adella storia degli avot, cioè degli antenati, nel libro della Bereshit che rinizierà nel ciclo appunto annuale del nuovo anno, il nuovo ciclo della lettura della Torah, alle molte mitzvot che troveremo in tutta la Torah, Hashem vediamo che getta le basi per Bein Adam lechabero che è tra l'uomo e il suo prossimo. Quindi vediamo che la Torah è così preziosa che senza quella frutto, senza quella quello strumento nessuno di noi sarebbe capace di poter comunicare con Hashem. È uno strumento che serve a tutti noi per comunicare con Hashem. È attraverso la Torah che comprendiamo poi il completamento e il compimento in Moshiach, Ben Davide, in Moshiach Jeshua perché attraverso la sua vita, morte e resurrezione egli ha completato, ha compiuto ciò che la Torah aveva preparato. E con il con il completamento appunto della Torah ora sappiamo che abbiamo ricevuto queste mitzvot e nel Beit HaMikdash nel Tempio appunto nel Sacro Tempio quando è accaduto che Benesraela ha lasciato l'obbedienza quindi si è separata, si è allontanata dall'obbedienza alla Torah allora è successo che il Beit HaMikdash è stato distrutto. In ogni generazione questo è avvenuto e l'antimessia nel piano di redenzione di HaShem che si è visto in ogni generazione ha fatto sempre la stessa ha seguito sempre la stessa dinamica quindi secondo il piano di redenzione l'antimessia in una persona in un popolo ha sempre utilizzato la stessa strategia quella di sfruttare la disobbedienza di Benesrael l'allontanamento dalla Torah l'allontanamento dall'obbedienza ad HaShem e alle Mitzvot come strumento di giogo come strumento di schiavitù e attraverso la schiavitù c'è stato l'allontanamento il raffreddamento come dire l'indurimento del cuore di Benesrael che si è invece dedicato all'idolatria quell'idolatria che HaShem reputa la cosa più sacrilega più dura contro se stesso perché idolatria vuol dire servire altri dei altro che lui e HaShem è un dio geloso vuole che noi serviamo lui e solo lui bene con questo consiglio che Moshe fa prevedendo ciò che in futuro sarebbe avvenuto benedice tutte le tribù indistintamente tutti gli Shevatim di Bene Israel iniziando con Ruven la Shevet Ruven è la prima a stabilirsi in Erez Israel perché la terra che sceglie è una terra particolare che allora era Erez Israel che ora si trova a est del Giordano ed è parte della Giordania nella terra di Moab a sud-est e dal momento che ci si trova come tribù di Ruven al di fuori dei confini principali di Erez Israel oggi allora ha bisogno di una speciale braca di una speciale benedizione che li difenderà da quei nemici che oggi ancora vivono e posseggono quel territorio perché purtroppo ci sono stati tanti compromessi e sono state lasciate vive delle popolazioni che allora sarebbero dovute morire combattendo e invece sono stati stretti dei patti che hanno portato dei compromessi e conseguenti territori che sono stati persi come parte di Erez Israel e Moshe pronuncia con possa Ruven vivere e non morire e che i suoi uomini siano annoverati tra le tribù proprio perché era un territorio molto molto difficile da mantenere infatti fu perso Shimon la tribù di Shimon è sempre stata problematica ai tempi di Jacob infatti di Jacob Shimon si alleò con Levi per massacrare la città di Sichem che ricordiamo era fondamentale da Abramo proprio era stata la prima e poi con Jacob era stata il primo punto di possedimento di Abraham e oggi è Palestina è il cosiddetto territorio palestinese e questa è la dimostrazione del fatto che anche qui anche in quei territori dove Shimon ha agito in maniera sbagliata alla fine sono territori che sono purtroppo stati persi da Eretz Israel Jacob dà comunque a loro due bracot due benedizioni perché benedice tutti i figli e nel corso del tempo Levi la tribù di Levi cambia strada ma i discendenti di Shimon non cambiano hanno dei cattivi caratteri nei loro geni e quando le figlie di Madian invitano Bene Israel a festeggiare con l'idolo Peor Shevet Shimon risponde unendosi a queste donne quindi compiendo ancora una volta un'azione che Hashem proibiva Ashittim Zimri il principe di Shevet Shimon pecca con una principessa Madianita sfidando Moshe in pubblico e porta una piaga in tutto il campo di Bene Israel che spazza via 24.000 membri che sono tantissimi della sua tribù e Moshe è piuttosto infastidito da Shevet Shimon quindi sceglie di non benedire questo gruppo vediamo che Moshe nonostante stia benedicendo tutte le tribù non benedice questo gruppo Yehuda la tribù di Yehuda di Giuda da Shevet Yehuda discenderanno come sappiamo i re di Israele fino a Moshe ben David Moshe e Moshe chiede ad Hashem di ascoltare le preghiere di questi re quando sono minacciati dai nemici di Israele Moshe prega anche che Hashem riporti i soldati ebrei sani e salvi a casa dal campo di battaglia e che Hashem guidi gli eserciti di Israele alla vittoria in battaglia e veniamo alla tribù di Levi la tribù di Levi riceve la migliore braca la migliore benedizione che Moshe può dare a Shevet Levi e che Hashem li tenga separati dal resto di bene Israele come sappiamo saranno consacrati vivranno delle decime donate appunto dalle varie tribù a loro e ai tempi di Jacob la tribù di Levi è una delle due piantagrane quindi non si presenta bene insieme alla sua corte fraterna Shimon ma la benedizione la braca di Jacob manda Levi a diventare una tribù sacerdotale quindi cambia totalmente la il proposito lo scopo della tribù e a Mitzraim in Egitto Shevet Levi non è mai costretto a lavorare infatti come schiavo e sono è una tribù di insegnanti Amram il padre di Moshe infatti era il capo di bene Israele durante la schiavitù egiziana e dopo gli Eziat Mitzraim dopo l'esodo dell'Egitto Shevet Levi ha precedenti quindi perfetti e mentre bene Israele parla della maanna della carne dei rapporti delle spie poi adora il vitellore adoro vediamo come il proposito di questa Shevet Levi si separa dal gruppo si consacra ad Hashem e si concentra sul servizio al tabernacolo di Hashem che poi sarà servizio al tempio e poiché Shevet Levi è dedito a servire Hashem e insegnare alle persone la Torah Moshe chiede ad Hashem di benedirle con ricchezza e vedremo che la tribù di Levi sarà molto ricca perché le decime saranno tante e convergeranno tutte dalle varie tribù e in questo modo i Levi e Koanim appunto i sacerdoti al tempio non dovranno mai abbandonare il loro lavoro per problemi di denaro e questo viene dalla benedizione che Moshe ha fatto loro e dall'obbedienza che le varie tribù hanno mantenuto dando sempre le decime a loro per poter portare avanti il servizio al tempio Moshe quindi prega anche che Hashem distrugga i nemici di Levi come i greci che combatterono contro Yasmonei che in ebraico è durante il il periodo della storia di Chanukah che celebreremo quest'anno come ogni anno è un altro nemico di Levi della tribù di Levi e è un non koen non sacerdote che cerca di fare la vodà e gli udici che possono svolgere il lavoro di Beta Mikdash sono i koanin sono i sacerdoti tutti gli altri non devono presentare domanda e se ci provano muoiono vediamo come quindi la selezione di Hashem per ognuno dei membri di Benesrael secondo le varie tribù era molto chiara e poi veniamo alla tribù di Beniamin Hashem ha un debole per questa Shevet Beniamin la Shevet Beniamin è al tempo di Yaakov sappiamo Beniamin è l'unico figlio rimasto vivo secondo ciò che Yaakov sapeva è l'unico nato a Erez Israël ed è ancora l'unico figlio che non complotta per vendere Yosef conforta suo padre Yaakov nella sua vecchiaia mentre Yosef è in Mitzraim e non si inchina a Esav fratello di Yaakov Beniamin quindi è l'unico figlio che non ha mai peccato il che lo rende uno dei primi quattro tzadikim senza peccato di tutti i tempi e ci deve essere uno zekut un merito in questo infatti Hashem sceglie la terra di Beniamin per ospitare il Beit HaMikdash e questo è importantissimo nella storia di Israele infatti fa riposare lì la shekhina la gloria e Iosef che è appunto Iosef la benedizione di Giuseppe che va a Iosef sono benedizioni che viene poi divisa secondo i suoi figli Efraim e Manashe che diverranno le due tribù di Efraim e Manashe e Moshe benedice questi shvatim con i migliori prodotti di tutta la terra ricordiamo che queste due tribù erano tribù di figli e che Iacob considera figli seppur figli di un figlio quindi Moshe benedice questi shvatim con i migliori prodotti della terra pozzi sotterranei e nei giorni in cui Iosef è sovrano di Mitzraim si prende cura della sua famiglia assicurandosi che i suoi fratelli e il suo padre siano tutti riforniti di cibo anche durante la carestia dei sette anni ricordiamo le porzioni di terra che vanno alle tribù di Efraim e Manashe sono Midah Heneged Midah occhio per occhio e come ricompensa per le azioni di Iosef perché Iosef aveva benedetto tutte le tribù di Israele aveva benedetto tutti coloro che avevano fatto del male a lui e in una maniera incredibile per sette anni dando loro la sopravvivenza sarebbero tutti morti se Ben Iosef non avesse benedetto benedetto loro durante la siccità appunto e la fame che ci fu nei sette anni d'Egitto Hashem sceglie quindi il nuovo primo capo di Ben Israele proprio da questa da una delle due tribù Shvetta Efraim dalla tribù di Efraim e la benedice con la forza di un bue e la maestosità delle corde di un re ossia di un bue selvaggio quel capo è Yehoshua quindi Yehoshua viene da Efraim ora veniamo a Zebulun e Issachar una delle più grandi collaborazioni di tutti i tempi è Zebulun e Issachar infatti entrambe queste due Shvetim ereditano la terra lungo la costa Zebulun si dedica alla pesca in alto mare mentre Issachar è nota per i suoi studiosi della Torah molti dei quali finiscono nel Sinedrio appunto la corte suprema ebraica sebbene Issachar sia più vecchio di Zebulun viene menzionato per primo perché se non fosse per lui per Zebulun per la tribù di Zebulun lo studio della Torah di Issachar non sarebbe stato possibile infatti Zebulun strinse un accordo con la tribù di Issachar prevedendo che la Shevet Zebulun guadagnerà così tanti soldi da poter supportare finanziariamente Shevet Issachar in questo modo Issachar può imparare la Torah senza preoccuparsi di guadagnarsi da vivere e Moshe promette che Zebulun si attenga all'accordo diventando abbastanza ricco da andare in pensione presto e imparare da soli a tempo pieno quindi questo vediamo che è un accordo fondamentale per queste due tribù perché non solo l'una ma l'altra sono state benedette in una maniera incredibile ora veniamo alla tribù di Gad lo Shevet di Gad si stabilisce presto nel paese Moabita ricordiamo sempre Moab è a sud-est del Giordano siamo sempre fuori dell'attuale territorio di Arez Israele sul lato orientale del Giordano accanto a Ruben e parte di Manashe perché ricordiamo che queste tre tribù si offrirono di andare per prima in prima linea combattendo davanti a tutte le altre tribù ed è per questo che ognuna di queste tribù guadagnò molto più territorio delle altre è quella aperta campagna che piace a questo Shevet perché ricordiamo era molto verde era verdissima l'allora territorio e l'erba era verde abbondante ottima per le pastorizie bovini e pecore di cui Gad così come Manashe e Ruben erano ricchi erano le più ricche tribù e quindi occupavano molto più spazio delle altre tribù di fatti quella di Manashe ebbe altri due territori all'interno di Erez Israele con Efraim e Shevet Gad è paragonato a un leone questo leone che è sempre circondato dai suoi nemici sempre in guerra con i suoi nemici e non c'è da stupirsi infatti si trova sul lato est del Giordano con un'intera lista di nemici che aspettano solo di mettere le mani su Bene Israel quindi Moshe dà loro uno speciale braca una benedizione incredibile di protezione ed ha anche a Gad una menzione d'onore per aver accettato di mettere come abbiamo detto i loro soldati in prima linea durante la conquista di Canaan Dan la terra la terra di Dan confina con il Giordano e qualsiasi Shevet che si trova vicino a un confine di Erez Israele è paragonato a un leone perché lungo i confini c'è di sicuro la battaglia con popolazioni viventi in quei territori e Shevet Dan però è più simile a un cucciolo di leone quando si tratta di forza fisica quindi Moshe prega che Hashem li protegga Naftali Shevet Naftali è stata benedetta la loro porzione di Erez Israele copre il mare di Kineret ossia il mare di Galilea che è pieno di pesci dal sapore eccezionale inoltre la valle di Ginosar è nota per l'ottima frutta veniamo ora alla tribù di Asher la tribù di Asher è benedetta da una esplosione demografica nel deserto infatti da un numero di 41.500 uomini oltre 18 anni e sotto i 60 la tribù di Asher è passata a 53.400 tra il primo e il secondo conteggio quindi sono moltiplicati Asher ha anche belle figlie e molte infatti di queste bellissime figlie finiscono per sposare con i Keunah e successivamente con la famiglia reale davidica quindi hanno rappresentato proprio le donne spose dei re di Israele provenienti appunto dalla Shevet Asher tribù tribù di Asher e molte di queste donne finiscono appunto per essere quindi di fondamentale importanza nella storia di Israele e da loro parte di Rez Israele è nota anche come territorio degli ulivi i più grandi appezzamenti di ulivi sono proprio nella terra di Asher e anche nell'anno della Shemitah infatti che è appena passato per noi le olive continueranno a piovere quindi renderanno questa tribù di Asher molto apprezzata quando diventerà libero libera disponibilità per tutti gli altri nel settimo anno Asher ha davvero vinto il primo premio della benedizione con una benedizione extra di forza nella vecchiaia come proprio l'ulivo l'albero dell'ulivo e questi vecchi Asheriani possono mostrare i loro muscoli come un adolescente con l'aiuto di Hashem quindi parliamo ora dell'unità delle tribù nelle sue ultime parole Abne Israele Mosher ricorda loro la grandezza di Hashem non c'è dice Mosher non c'è nessuno come il dio degli ebrei la cui shekhina la cui gloria dimora nei cieli e che viene in vostro aiuto ha creato il mondo e lo guida ha polverizzato i giganti Sikron e Og e vi ha dato la possibilità di distruggerli ma Mosher dice vedo che presto verrà il momento in cui ogni ebreo di Erez Israele vivrà al sicuro in tutta la terra la terra fiorirà come è stato promesso nelle benedizioni dei vostri antenati Avraham Yitzchak e Yaakov sii felice bene Israele dice Moshe Hashem il creatore del mondo intero l'unico Dio che controlla tutto ciò che accade ha scelto di aiutarti e di proteggerti i tuoi nemici correranno spaventati quando sentiranno che la potente nazione di Hashem sta arrivando per reclamare la terra ma ricorda dice Moshe tutte le vittorie nel mondo non sono che un accenno della vera ricompensa che sta aspettando i custodi delle mitzvot di Hashem in Olam Abba nel mondo avvenire nel regno di Hashem Amen quindi Moshe finalmente dà il suo addio a Bene Israele dopo tutte le benedizioni dopo aver benedetto tutte le shevitim dice addio a Bene Israele per tutto il giorno Moshe ha salutato la sua gente ma mentre il giorno svanisce Bene Israele sa che non lo vedrà quando sorgerà il sole e come ultimo gesto di amicizia Moshe si scusa chiede perdono per essere stato così duro con la nazione di Israele anche il popolo Bene Israele si scusa con Moshe sapendo che è stato molto difficile da gestire e Moshe Bene Israele accettano quindi di perdonarsi l'un l'altro e dimenticare perdonare e dimenticare che sono le cose più difficili per ognuno di noi a volte diciamo possiamo dimenticare ma non perdonare o possiamo perdonare ma non dimenticare Bene Hashem ci chiede di fare entrambe le cose ma per 40 anni Bene Israele ha fatto affidamento su Moshe il loro rebbe che li ha guidati li ha protetti dall'ira di Hashem senza Moshe come possono andare avanti Bene Moshe ha un ultimo consiglio per la nazione di Israele dice non riporre la tua fiducia in un essere umano uno zadicco un gran capo un grande chiacchierone non fa la differenza solo Hashem il creatore il tuo creatore può davvero aiutarti Hashem è colui che controlla tutto ti ascolterà anche se sei un peccatore puoi rivolgerti ad Hashem per guidarti la gente quindi il popolo di Israele è commosso dalle parole di Moshe e all'unisono grida all'unisono grida scusate confidiamo in Hashem Hashem ordina quindi a Moshe di andare in cima al Harnebo il tempo è arrivato per lui di accomiatarsi e Moshe si arrampica avidamente balzando in cima di un balzo in un altro e la sua forza all'età di 120 anni corrisponde ancora a quella della sua giovinezza Ibbne Israele assiste a questa ultima volta della risalita del monte Nebo e a Moshe viene data una ultima possibilità di dare un'occhiata ai rezi Israele da parte di Hashem ma questa volta Hashem mostra a Moshe dove ogni Shevet si stabilirà e Moshe sperimenta la vita ai tempi di ogni discendente quindi vede nel futuro di Ibbne Israele fino a Tehiyat Amaitim il tempo del Moshe Amen quindi Moshe ora può morire è il momento quindi di andare via come un grande e supremo profeta di Israele di tutti i tempi sa che la morte non è nulla da temere soprattutto perché Moshe ha già trascorso 40 giorni in paradiso prima quando Hashem gli ha donato appunto la Torah per Ben Israele e chi è abbastanza grande da prendere quindi il Neshamah l'anima di Moshe non l'angelo della morte Moshe infatti lo respinge con il suo bastone da passeggio Hashem invia tre Malachim tre angeli Mikhael Gavriel è zigzag e Mikhael Michele il Malach della misericordia prepara quindi per lui un giaciglio un letto e questo per dimostrare che la più grande qualità di Moshe nella leadership è sempre stata la misericordia Gavriel il Malach della giustizia stende un panno di lino sulla testa di Moshe per mostrare che Moshe ha sempre compreso quando e come rimproverare i bene Israele quindi il più santo di tutti i Malachim zigzag depone un panno per i piedi di Moshe e Hashem stesso discende da Shamaim ordina Moshem di sdraiarsi su questo letto e di chiudere i suoi occhi Hashem ora parla all'aneshama di Moshe all'anima di Moshe e dice ti ho messo in questo corpo 120 anni fa ora è tempo di tornare a Shamaim il paradiso e l'aneshama risponde Hashem è più grande rimanere in questo corpo santo di Moshe che essere con i Malachim di Shamaim Hashem basha quindi Moshe immediatamente quindi il piacere di essere così vicino ad Hashem attira la sua neshama su Shamaim e il corpo di Moshe viene deposto in una tomba preparata durante i sei giorni della creazione pochi minuti prima del primo Shabbat infatti si crede secondo la tradizione che proprio a Shabbat la Torah era stata donata a Israele e che Moshe muore proprio pochi minuti prima del primo Shabbat e quindi questo ci fa comprendere come nella perfezione del piano di redenzione di Hashem tutto ha un motivo tutto ha un senso Hashem stesso seppellisce Moshe infatti questa era una ricompensa per Moshe che aveva portato via i resti di Yosef da Mizraim dall'Egitto per essere sepolte sepolti ai resi Israele e la posizione esatta della tomba di Moshe è conosciuta solo da Shem se si va in Giordania ci sono tante diverse locazioni diciamo della tomba di Moshe a seconda della popolazione che la rappresenta ma nessuno conosce il posto preciso in cui Moshe è stato appunto seppellito perché è stato seppellito da Hashem e nessuno era con lui la Torah ci dice che il corpo di Moshe è infatti stato sepolto di fronte al punto in cui bene Israel adoravano l'idolo Bar Peol con le figlie di Midian e nel suo Zehut nel suo merito questo terribile peccato e finalmente perdonato attraverso la sua vita Moshe morì il 7 di Adar 2488 ossia il 23 febbraio 1273 prima della nascita di Moshe a Chieshua era nato 120 anni prima nella stessa data ebraica e per 30 giorni bene Israel effonde il suo cuore il lutto piangendo per il lutto della suo Rebbe e durante questo periodo rimangono nelle pianure di Moab le ultime parole della Torah infatti dichiarano non ci sarà mai un altro profeta come Moshe solo Moshe un umile pastore che si prendeva cura anche di un singolo agnello smarrito poteva condurre la nazione eletta di Hashem fuori della schiavitù e verso la grandezza come una Torah che apparteneva alla nazione di Israele ma non è la fine è solo l'inizio un nuovo inizio infatti con queste parole abbiamo completato l'intera Torah l'intero ciclo di lettura della Torah attraverso appunto il progetto della Kadima e la rivista Devash con questa parashah si conclude il ciclo annuale della lettura delle parashot ma non è qui che finisce il nostro lavoro infatti come abbiamo detto c'è molto da imparare tanta più Torah da esplorare e lasciate che vi dica un segreto c'è un personaggio nella Torah che è stato davvero sminuito infatti ricordiamo Chebel il figlio di Adamo che fu assassinato il primo giorno bene indovinate un po' si dice che Hashem lo abbia riportato in vita 2368 anni dopo il suo nome è Moshe Rabbeinu è un ritorno o cosa ma questa è un'altra storia e ora prima di concludere diamo uno sguardo al Midrash l'ultimo parasha nella Torah nel ciclo di lettura delle Torah di quest'anno si conclude con questa parasha Vesot Abraha che viene letta come abbiamo detto Hashemini Azzeret e Simchat Torah quindi quest'anno cadrà appunto di mercoledì martedì mercoledì e nella diaspora Vesot Abraha è l'unica parasha della Torah che non viene letta durante lo Shabbat poiché la Simchat Torah non può cadere durante lo Shabbat infatti verrà letta proprio in questa settimana a venire ma abbiamo appunto concluso con questa parashot il nostro Devash la rivista Devash e potrete appunto richiedere la vostra copia sia in formato elettronico che in formato stampato via email a contatto chiocciola makhasesheltikva punto org un altro elemento insolito su Vesot Abraha è che a differenza di tutti gli altri parashot Vesot Abraha cade sempre nella stessa data nel calendario infatti il 22 di Tishrei in Erez Israele e scusate il 23 di Tishrei nella diaspora e leggiamo quest'ultima parashah su Shemini Azzeret e Simchat Torah mentre completiamo il ciclo annuale delle letture della Torah poi ricominciamo immediatamente il ciclo con la lettura della parashah Bereshit e potrete appunto guardare i video ascoltare gli audio leggere le parashah sulla rivista De Vash in formato elettronico o stampato a vostro piacimento per ricordarci che non dobbiamo mai poi mai pensare in termini di conclusione quando si tratta di Torah perché un ebreo dovrebbe sempre sentire che nella Torah non c'è mai fine non abbiamo mai finito dobbiamo ricominciare dall'inizio la quarta aliyah infatti inizia con la brachah la benedizione per gli Shavitim tutte le tribù iniziando da Zebulun Isakar di cui ricordiamo in Besot a Brachah 33 capitolo 33 versetti 18-19 di Zebulun disse rallegrati Zabulun quando uscirai e Isakar nelle tue tende i popoli si raduneranno sul monte lama scelleranno o prepareranno le offerte di giustizia perché dalle ricchezze del mare si nutriranno e dai tesori nascosti nella sabbia e Zebulun e Isakar sono benedetti insieme in una brachah perché erano partner appunto erano soci in una relazione di cooperazione con Zebulun che sarebbe stato mercante e avrebbe preso metà dei profitti per sostenere Isakar la cui occupazione era devoluta lo studio della Torah nella Oleh nella Tenn e Rashi commenta che anche se Isakar era più anziano poiché il sostegno di Zebulun rese possibile lo studio della Torah di Isakar il nome di Zebulun è menzionato per primo e Rashi commenta anche sul linguaggio che Zebulun si rallegrerà per la sua partenza per la anche per gli affari che ha portato avanti e spiega che Moshe stava dicendo a Zebulun di rallegrarsi del suo successo quando appunto l'avrebbe portato avanti poiché Isakar avrebbe avuto in conseguenza successo nei suoi studi e il Midrash spiega che Moshe stava dicendo a Zebulun che si rallegrerà quando lascerà questo mondo ma come mai? perché Isakar è nella tua tenda hai una parte integrante in tutta la sua ricompensa e anche Lor Achaim Akadosh un commentatore biblico del XVII secolo commenta il linguaggio secondo cui Zebulun si rallegrerà il motivo per cui si rallegrerà è perché Zebulun sa che le sue imprese i suoi affari sosterranno lo studio della Torah di Isakar suo fratello e di solito un uomo d'affari esce di casa in cerca di reddito e se e quando torna con un profitto è gioioso ma non all'inizio tuttavia dal momento che Zebulun lascia la casa in cerca di reddito per sostenere Isakar quindi con un proposito più alto alla certezza del successo e anche immediata immediatamente la mitzvah di coinvolgere nello sforzo di sostenere gli studi della Torah e questo eleva tutte le energie di Zebulun nelle mitzvot pertanto si rallegra di questi sforzi significativi e aggiunge che Zebulun non si limita a lavorare sodo e poi fa una bella donazione alla yeshiva locale piuttosto tutto il suo essere il suo desiderio sono di lavorare per Isakar questa realizzazione dello scopo e del dovere rende tutte le sue azioni kodesh quindi santificate consacrate per il ribonoshel olam Hashem e Rabbeinu Bachei dice che forse il motivo della doppia lettera Sin nel nome di Isakar è per indicare che il suo apprendimento della Torah porta una doppia ricompensa infatti Sin per Sakar ricompensa per se stesso l'effettivo apprendente della Torah è anche per Zabulun che lo sostiene il Vilna Gaon che è uno studioso della Torah del XVIII secolo comprende il linguaggio del rallegrarsi in un modo diverso infatti il Gaon insegna che la gioia suprema arriva quando si raggiunge un livello più elevato di comprensione e questo è il motivo per cui si dice se ma Zabulun bet sei pecha rallegrati Zebulun o Simcha ma in questo caso Simach Zebulun quando esci Moshe dice infatti a Zebulun di rallegrarsi quando lascia questo mondo perché allora acquisirà istantaneamente tutta la conoscenza e capirà tutta la Torah che è stata appresa solo sotto i suoi auspici grazie al suo lavoro un altro vantaggio per uno membro della tribù di Zebulun può essere appreso dalla seguente storia vera sentita dal noto conferenziere rabbino Issach Harfran questo incidente è avvenuto con Rav Eliezer Gordon vissuto dal 1840 al 1910 il fondatore della Telce Yeshiva sposò la figlia di Rav Avraham Yitzhak Nevieser e Rav Eliezer Gordon aveva una meritata reputazione come uno dei più giovani più eccezionali dello stato di Israele e quando si è fidanzato suo suocero gli ha detto che lo avrebbe sostenuto a quei tempi il genero abitava nella casa del suocero è così che è stato supportato Rav Eliezer Gordon una comunità dopo l'altra si avvicinò a Rav Eliezer Gordon e gli chiese di diventare il loro rabbino ogni volta che una comunità si avvicinava a lui per diventare il loro rab chiedeva a suo suocero il permesso di assumere quella posizione invariabilmente suo suocero insisteva perché rimanesse con lui seduto e imparando suo suocero gli disse di non preoccuparsi promettendogli di continuare a sostenerlo questo è successo anno dopo anno infine la suocero ha detto al marito è già ora che il nostro genero vada avanti non possiamo mantenerlo qui per sempre suo marito ha risposto non si sa mai chi sostiene chi alla fine infatti Rav Gordon prese posizione e divenne un rabbino della comunità il giorno stesso il giorno dopo scusate aver lasciato la casa di suo suocero è morto quindi non si sa mai chi sostiene chi chi è il portatore chi viene portato infatti Rav Leiser Gordon sosteneva suo socero non il contrario tuttavia anche quando quelle quegli euro vanno verso l'obiettivo supremo di sostenere lo studio della Torah il ruolo della Torah di un lavoratore non si limita a portare a casa gli euro lontano da esso infatti come afferma la Torah poiché dalle ricchezze del mare saranno nutriti Rashi dice che questa braca di derivare ricchezze dal mare libererà Issachar e Zebulon permettendo loro di imparare la Torah non è sufficiente per Zebulon sostenere solo lo studio della Torah di Issachar anche coloro che sostengono lo studio della Torah sono obbligati a studiare la Torah da soli inoltre i popoli si raduneranno presso il monte là prepareranno le offerte di giustizia cosa significa la Torah quando menziona queste persone che si raduneranno sul monte e prepareranno queste offerte di giustizia qual è il collegamento con Zebulon e Issachar bene Arashi cita un adorabile e notevole Midrash Sifrei 354 che dice così attraverso gli affari di Zebulon i mercanti delle nazioni del mondo verranno nella sua terra poiché era al confine e loro ossia i mercanti non ebrei diranno dato che ci siamo presi la briga di viaggiare fino a questo punto andiamo a Gerusalemme vediamo qual è il dio di questa nazione quali sono le pratiche di questa nazione la Gerusalemme vedranno tutto Israele adorare Hashem mangiare lo stesso cibo poiché tra le nazioni il dio di questo popolo non è come il dio di un altro e il cibo di questo popolo non è come il cibo di un altro poi diranno non c'è nazione come questa e là si convertiranno al giudaismo a Yerushalayim come dice là prepareranno le offerte di giustizia Zebulon che lavora nel mondo ha involontariamente contribuito a portare le persone al giudaismo e un ebreo oggi negli affari o nella professione può avere lo stesso enorme impatto spirituale sui suoi colleghi ebrei e non ebrei ma come semplicemente essendo un mens una persona di integrità e di onore e semplificando la nobiltà di uno stile di vita della Torah che ci piaccia o no siamo tutti ambasciatori e portatori della nostra fede e del nostro popolo e questo possiamo dire è l'obiettivo insito nell'intera Torah di ognuno di noi di ogni individuo nella nazione di Israele della Torah studioso dottore casalinga rabbino lavoratore quello è il proposito e l'obiettivo fare un kidushashem santificare il nome di Dio fare il Dio di Israele e la Torah più amata portare appunto il Dio di Israele e la Torah più amata agli occhi dell'umanità possano possiamo tutti noi esserne degni qualunque sia il nostro opposto opposizione nella vita di aumentare kidushashem nel mondo amen preghiamo Abelum Alkenu nostro padre nostro re ti ringraziamo per questo anno che ci hai concesso di poter servirti in spirito e verità di poter condividere la Torah di verità la redenzione in Yeshua Hamashiach con tutti coloro che hanno partecipato e coloro che ci seguono e ti chiediamo di poter benedire così come è stato per Zebulon tutti coloro che sono stati a nostro seguito e che lo saranno attraverso questa rivista De Vash che possa raggiungere tutte le famiglie che ne fanno richiesta che possa essere uno strumento di benedizione di insegnamento della Torah in tutte le famiglie nel nome di Yeshua Hamashiach Gesù il Messia Amen Shavua Tov e le Itraot Chak Samer